Saranno praticamente 4.000 gli spettatori sugli spalti del Degli Ulivi per il derby tra Fidelisando e Foggia di questo pomeriggio. Segno della passione che contraddistingue da sempre i tifosi biancazzurri, nonostante le grandi difficoltà di questa stagione e quell'ultimo posto in classifica a cui ci si è purtroppo abituati da ormai alcune settimane. Ma se c'è uno spiraglio per raggiungere quantomeno i play-out, si passa senza dubbio dalle prossime due gare casalinghe con Foggia e Gelbison. E i tifosi andriesi lo hanno ben compreso, provando a star vicini alla squadra ancora in questo momento di grande difficoltà, ma in cui qualche spiraglio si intravede, tre gare senza subire reti nelle ultime quattro e squadra più corta e quadrata con l'arrivo di Trocini, ma anche pochissimo incisiva in fase offensiva. Il nodo della stagione ruota attorno a questo elemento. Peggior attacco del campionato. Provabile l'inserimento dal primo minuto di Ekuban, con al suo fianco Mikoski tra i più positivi a Messina e Bolsius, Pastorini potrebbe essere impiegato a gare in corso. Pochi i dubbi a centrocampo, dove accanto ad Arrigoni e Candellori potrebbe agire Costa Ferreira, che ogni giorno acquisisce più condizione. In difesa torna Ciotti sulla fascia, mentre conferma per Savini tra i pali. Tra Fidelis e Foggia sarà il quattordicesimo incontro ad Andria. Perfetta parità nei successi, quattro a testa, cinque i pareggi, fischio d'inizio alle ore 17.30.